L'iniziativa Babbo Natale ti aspetta è organizzata da Proloco Giovanni Montecchio e Delica Viaggi è nata per permettere ai bambini di poter consegnare la letterina di Natale anche quest'anno. Ci sarà Babbo Natale, gli Elfi, i bambini dovranno arrivare con la loro letterina di Natale scritta a casa e la imbucheranno nella casella della posta. Io sono una mamma di due bambine quindi pensando a loro quest'anno cosa facciamo è nata questa iniziativa. Quindi genitori, bambini, venite alla Elika Viaggi per consegnare la letterina di Natale dei vostri bambini. Rispetto all'anno scorso che magari c'erano i mercatini di Natale, quindi questa iniziativa dove Babbo Natale rimpiazza ad aspettare i bambini e noi abbiamo organizzato un allestimento dove poter fare la pallina di Natale con i bambini, quest'anno era un po' impossibile, quindi grazie a Katia di Elika Viaggi che ha avuto quest'idea e riusciremo insomma ad accogliere i bambini in questo spazio dove potranno consegnare la loro letterina fatta a casa e noi aiuteremo un po' anche nella sicurezza a gestire le entrate e le uscite, quindi uno spazio totalmente sicuro. E la Proloco di Montego che sappiamo che organizza tantissime cose durante l'anno, quest'anno purtroppo è venuta a mancare l'organizzazione della mostra al mercato del tartuffo e dell'olio che proprio in queste date l'anno scorso aveva creato un gran numero di gente comunque a partecipare può contare comunque su un bel gruppo di giovani appunto dando spazio tanto alla Proloco Giovani. Sì, diciamo che ancora non siamo proprio un gruppo enorme di giovani, speriamo infatti che ci... Aspettiamo nuovi iscritti. Speriamo nuovi iscritti anche perché siamo pochi per ora, però per quel poco che siamo cerchiamo di portare avanti questa cosa in cui crediamo, che è quel fatto che i giovani comunque possono dare tanto, il paese e l'iniziativa ovviamente sono anche di più, abbiamo più iniziativa, più volle di fare, quindi facciamo anche un appello ai giovani che stanno a voglia di iscriversi, comunque di collaborare insieme a noi per molte iniziative che purtroppo quest'anno sono saltate tutte quante, abbiamo dovuto un po' posticipare, poi non si potevano rifare e purtroppo quest'anno è andata così, speriamo che a gennaio, febbraio riusciamo a portare avanti un nuovo calendario con le nostre iniziative e per ora intanto comunque cerchiamo di portare avanti questa qui del Natale insieme a Elika Viaggi e aspettiamo tanti bambini e speriamo che vada tutto bene insomma. Per questi giovani che magari ascoltando l'intervista vogliono venire a dare una mano, giovani di Montecchio e di Oliofoglia, come possono fare? Ci possono contattare sulla pagina Facebook o comunque scriverci esatto e poi ci incontriamo, facciamo la tessera e quindi dai vi aspettiamo numerosi, speriamo.